Ragazzi, io non ci credo, ragazzi, io non ci credo, non voglio crederci a quello che ho appena visto, a quello che è successo a San Siro, il miracolo, il miracolo inatteso in quella di San Siro, il miracolo a San Siro. E' accaduto quello che tutti quanti i tifosi bianconeri stavano sperando, da almeno 24 ore dopo il successo del Napoli, di Gennaro Gattuso nel lunch match che ha dato il via, che ha aperto le danze a questa 37esima giornata. Ecco, era rimasto il Milan di Stefano Pioli e citando Pioli, dopo il successo nettissimo contro il Torino, mercoledì sera aveva parlato, si era pronunciato alle telecamere, ai microfoni e aveva parlato di questi famosissimi 3 km alla fine del percorso, alla fine della tappa. Ecco, questi famosissimi 3 km alla fine non sono stati percorsi questa sera dal Milan di Stefano Pioli. Un solo chilometro che però non basta, non basta per centrare dopo 6 anni di attesa, dopo tantissimo tempo che il Milan non gioca, anzi forse anche qualche anno di più, 7-8 anni di assenza dalla Coppa, dalle grandi orecchie. Ecco, non è bastato questo ultimo chilometro, questo punto casalingo, questo 0-0 a reti inviolate contro il Cagliari, il Cagliari di Leonardo Semplici. Vorrei parlare almeno un minuto di questa formazione che nelle ultime 7 partite, dopo 3 sconfite consecutive che lo avevano, almeno per qualcuno, già ormai retrocesso per qualche giornalista, per qualche giornalista che aveva già fatto il funerale sulla formazione sarda. Ecco, il Casteddu non ha mollato, il Casteddu non ha mollato un colpo. 4 vittorie e 3 pareggi, 4 vittorie e 3 pareggi che sono valse una salvezza festeggiata in hotel prima della partita, prima di questi 90 minuti interminabili, prima di questo pareggio storico alla scala del calcio. Ecco, il Casteddu non ha mollato un colpo e questa sera la formazione di Leonardo Semplici che nelle ultime 7 partite ha accendato 4 vittorie e 3 pareggi. 4 vittorie e 3 pareggi, numeri che sono anche migliori di questa salvezza ottenuta nelle ultime giornate, dopo un campionato davvero molto molto complicato. E vorrei ripeterlo e sottolinearlo ancora una volta, i miracoli, i miracoli di Gigio Donnarumma hanno evitato anche la sconfitta questa sera per il Milan di Stefano Pioli. Una prestazione da cancellare, ecco, se il Milan andrà con questo atteggiamento, con questa costruzione di gioco, con questa determinazione a Bergamo domenica prossima, con l'obbligo di vincere per centrare la qualificazione alla prossima Champions League, io personalmente la vedo molto molto dura. La vedo molto molto dura. Parlo da Juventino, da tifoso Juventino che dovrebbe essere comunque molto contento di questo pareggio. Io sono contento che la Juve è ancora in gioco per la Champions League, perché non centrare la Champions League sarebbe un tracollo clamoroso, un tracollo epocale, perché, ok, puoi non vincere lo Scudetto dopo nove stagioni consecutive in cui hai vinto lo Scudetto, però non entrare neanche tra le prime quattro. Tra le prime quattro sarebbe davvero un fallimento epocale per Agnelli, per tutta la società che ha investito in questa squadra. Sarebbe un fallimento anche per Andrea Pirlo, per la persona Andrea Pirlo e per questa prima esperienza da capo allenatore. Però, se confrontiamo il percorso del Milan e confrontiamo il percorso della Juventus, io alzo la mano, alzo la mano e dico, ragazzi, il Milan merita nove volte su dieci la Juventus di partecipare alla prossima edizione della Champions League. Ma questo è lo sport, e se tu, Milan, non costruisci un'azione degna di poter entrare in Champions League, allora ragazzi, si deciderà tutto tra sette giorni. Si deciderà tutto nell'ultima giornata, negli ultimi 90 minuti, negli ultimi interminabili 90 minuti. Atalanta, Milan, Napoli, Hellas, Verona, Bologna, Juventus. Il Milan che non ha mai convinto, perché il Milan ha tentato una conclusione con Salemakers, ha tentato una conclusione con Calabria, ha tentato una conclusione nella finale di tempo ancora con Salemakers, un'imbucata di Brahim Diaz per Rebic, quattro gol nelle ultime due partite contro Juventus e Torino, ma questa sera neanche una chance per Ante Rebic. Ma nel secondo tempo, prima su Pavoletti, e poi su un calcio d'angolo dove ha staccato più in alto di tutti Diego Godin, l'ex nero-azzurro, ha rischiato di festeggiare al meglio questo derby personale, dopo l'anno vissuto in nero-azzurro lo scorso anno. Nel finale, tante occasioni, tante pale vaganti, ma la palla alla fine non è entrata, e quindi questo punto riapre nuovamente, ancora una volta, la corsa Champions League. Toglietevi dalla testa che l'Atalanta non giocherà quella partita, perché l'Atalanta potrebbe festeggiare il secondo posto, record personale. Numero di vittorie, record personale. Record di vittorie nel girone di ritorno, record personale. Ecco, quindi toglietevi dalla testa che l'Atalanta non giocherà l'ultima partita. Quindi, con la vittoria, io la darei anche quasi per scontata, però in questa annata ho capito che dare qualcosa di scontato a questa Juventus è un po' rischioso. Quindi, calma, calma. Prima vinciamo la partita, vinciamo la Coppa Italia mercoledì sera. Poi pensiamo alla trasferta della Dallara contro il Bologna. Eh ragazzi, 90 minuti interminabili, 90 minuti da soffrire, 90 minuti da cardiopalme. E poi possiamo continuare con tante ancora parole per enfatizzare cosa succederà domenica prossima. Un minuto, guarda, 7.46. 7 minuti e 46 di video post partita Milan-Cagliari. Parliamo anche del successo con l'addio annesso di De Zerbi. Servirebbe un video singolo per parlare del caso De Zerbi, perché nella post partita ha annunciato ufficialmente l'addio al Sassuolo, l'addio anche al calcio italiano. Ecco, piango, piango da tifoso, da primo tifoso di Roberto De Zerbi come allenatore. Piango per perderlo, perché il prossimo anno sostituirà Luis Castro alla guida dello Shakhtar Donetsk. Quindi questa è una notizia ufficiale. Primo cambio in panchina, il Sassuolo perde il suo grande traghettatore. Il Sassuolo perde un grandissimo allenatore. Forse l'allenatore migliore insieme a Gasperini, insieme a Iulic in questa stagione, nulla togliendo a Antonio Conte. Però Roberto De Zerbi ha portato il Sassuolo all'ottavo posto in una classifica a meno due. Il Sassuolo si giocherà le ultime chance di conquistare l'Europa Conference League grazie al successo nel derby ducale contro il Parma al Tardini. Parma che così c'entra un altro record negativo in questa stagione da dimenticare. Ottava sconfitta consecutiva dal vantaggio siglato dagli 11 metri da Manuel Locatelli. Questa sera è rigorista atipico, visto l'ultimo errore di Domenico Berardi contro la Juventus. Dagli 11 metri non sbaglia Manuel Locatelli. Il pareggio al 32esimo di Bruno Alves sulla punizione di Hernani sbuca in mezzo all'area. Nero-verde Bruno Alves che impatta al 32esimo. Nel secondo tempo il classico gol dell'ex. Un altro gol dell'ex in questa domenica della penultima giornata. Dopo quello di Fabio Quagliarella all'Udinese. Ecco il gol dell'ex di Gregoire Defrel alla sua ex squadra al Parma. Gol che riporta in avvantaggio il Sassuolo. E poi una contropiede sull'asse Ferrari-Boga a siglare il gol del definitivo 3-1. Ma quello che è più importante, quello che è l'elemento centrale di questo video è che il Milan non va oltre lo 0-0 casalingo in casa contro il Cagliari già salvo. E quindi si dovrà giocare le ultime chance riguardanti la Champions League tra 7 giorni al Jarvis Stadium contro l'Atalanta. Di Giampiero Casperini è tutto aperto. E adesso la Juventus può sognare una qualificazione che avrebbe del clamoroso alla prossima edizione della Champions League. Grazie per l'attenzione. Lasciate unissimo like al video. Iscrivetevi come sempre al canale. E seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.